Siamo qui con Ilaria Buccheri di Radio Ascoli, siamo qui a San Benedetto al Haus e raccontaci di questo prossimo evento della tua trasmissione La Sentilaria e qual è la tua idea? Ciao Gianmarco, grazie e un saluto a tutti. Allora, secondo evento, seconda diretta la di streaming per la trasmissione La Sentilaria che è andata il palinsesso di tutto questo inverno, questa trasmissione che è andata in onda su Radio Ascoli tutti i lunedì alle 20.30. Adesso secondo live qui a Haus of Food and Design, tutto può succedere con La Sentilaria abbiamo già fatto un primo live, è andato molto bene, presenti due sindaci, il sindaco Pasqualino Piunti San Benedetto del Tronto e il sindaco Marco Pioravanti di Ascoli, perché l'intento è questo, unire queste due splendide cittadine e quindi con l'occasione invito De Gianmarco e il tuo direttore di Riviera Oggi il 29 mercoledì qui su questo divano, Haus of Food and Design, tutto può succedere, La Sentilaria vi aspetto, un bacio a tutti. Grazie.